Ma il mio mistero è chiuso in me Il mio mistero è chiuso in me Il mio mistero è chiuso in me Allora in pratica questa canzone nasce come il connubio tra una canzone classica appunto che è Nessun Dorma con un sound diverso sotto in effetti dove in effetti andiamo a fondere anche un rap sotto che in effetti parla proprio della trama della canzone Quindi comunque i testi sono associati però ovviamente c'è musicalità diversa a cavallata Sì 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 in effetti il testo rimane identico la storia rimane identica ci sono delle parole anche in effetti ci prendiamo la licenza Di aggiungere qualcosa Di aggiungere qualcosa sì senz'altro però è un connubio davvero molto interessante in effetti è una cosa nuova che ci entusiasma tanto anche E tu riesci a cantare Nessun Dorma mentre lui resta